Ciao, siamo qui a Noi Studio e stiamo registrando le tracce dei Dollface, la nostra band. Una delle cose tecnicamente interessanti, mutuate da Karl Berhein, è stata quella di microfonare la risonanza naturale del dobro in accordatura aperta e praticamente sfruttare le risonanze che mandano i cabinets, mandano in risonanza il dobro e il risultato è una riverberazione naturale, anche molto interessante, che potrete sentire in Nothing to Deny, uno dei nostri pezzi che abbiamo registrato. Stay rock!